Dreamy D9, il nuovo robot aspirapolvere di Xiaomi. Avete visto che forza sono uscito a prendere al volo lo scatolo che ho dentro il robot. No, in realtà dentro il robot non c'è, altrimenti col cavolo che riuscivo a prenderlo così. Tutto questo bel siferietto solamente per dirvi che ci troviamo di fronte a un prodotto che a me è piaciuto tantissimo e mi ha convinto. Ero un po' scettico all'inizio, ma con la prova sul campo, l'ho testato quasi una settimana, veramente mi è piaciuto. È in grado di aspirare, lavare. C'è un'app che potete scaricare sia sul vostro Android che sul vostro iPhone che vi permette di controllare praticamente tutto. È anche abbastanza economico. E niente ragazzi, meglio guardare la recensione perché vi spiego tutto tra pochissimo. Vediamo l'applicazione dove si può gestire tutto il nostro robot. Innanzitutto l'app è la classica di Xiaomi, Home. Infatti potete osservare io anche altri già dispositivi collegati come il monopattino e qui ho collegato il robot. E la prima cosa che viene mostrata è la mappa. Questa è la mappa dell'ufficio e l'ultimo percorso che lui ha effettuato. Qui è dove si trova attualmente la base e il robot è in fase di carica. E qui trovate già alcune informazioni sull'area di pulizia e il tempo di pulizia. Potete gestire più mappe da questo pulsante. Utile se avete una casa con più piani. E sempre da qui con questo pulsante invece potete creare delle barriere virtuali. A cosa servono? Beh servono banalmente a non far andare il robot da qualche parte. Ad esempio potete creare un muro. Impostare il muro dove volete. O banalmente scegliere un'area dove è vietata la pulizia del robot. Stessa cosa anche per il lavaggio. Quindi in questo caso vi faccio vedere. Qui non andrebbe a lavare. Qui non andrebbe ad aspirare. Per rimuovere basta premere su e poi toccare la X come in questo caso. Adesso torniamo indietro. Da qui in basso potete sempre gestire la mappa perché potete scegliere anche una zona. E guardate c'è anche scritto che questa zona è 2 metri per 2. Oppure scegliere direttamente la camera. In questo caso io sono la camera A. Dunque non posso scegliere più camere. Ma se ci fossero state più camere potevo gestire A, B, C. Quindi una camera per ogni lettera. Per iniziare la pulizia potete premere qui. Però vi voglio far vedere una cosa. Dalle impostazioni potete impostare alcune cose molto utili. Innanzitutto vi consiglio di andare in voce e volume perché qui potete scegliere la lingua italiana. Il robot vi parlerà in italiano. Questo è molto utile. Riprendi pulizia perché se avete una casa molto grande e il robot non ce la fa con una sola aspirazione. O meglio con un solo ciclo di carica. Ha da aspirare e pulire tutto. Allora cosa farà? Ritornerà alla base. Si ricaricherà e poi riprenderà la pulizia dal punto in cui ha interrotto. Qui potete scegliere invece il livello dell'acqua. Qui la modalità di pulizia. Che sono silenzioso, standard, alta potenza o turbo. Io vi consiglio standard, va più che bene. La cronologia della pulizia vi fa vedere ogni giorno la pulizia, come è andata, se è andata a buon fine, cosa è successo. Se per qualche motivo non trovate il vostro robot, premete qui. Avete sentito? Lui parlerà per farvi capire dove si trova. Ma la cosa più interessante è questa pulizia programmata, perché ad esempio io ho programmato che tutto deve essere pulito ogni giorno alle ore 21. Ecco qua, qui c'è la ripetizione. Si sceglie appunto quale giorno o quali giorni. Possiamo scegliere anche appunto la modalità di pulizia e impostare il livello dell'acqua. Da qui potete dare anche un nome al vostro robot. Io ho lasciato quello di base che è il Dream Robot D9. Queste sono le gestioni del wifi e delle sedi, gestione intelligente delle scene e poi aggiornamento firmware. Alla fine l'app è completa, ma non vi aspettate chissà quanto in più o quante cose. Ad esempio quella di D-Boot è molto più completa, però questa ha tutto ciò che serve di base per far funzionare bene il robot. Allora il robot è lì, mi avvicino per farvi vedere che poi naturalmente qui su avete anche dei pulsanti per comandare manualmente il robot se volete, come ritorno a casa, è l'inizio della pulizia. E se alzate poi naturalmente qui, troverete non solo il tasto per il reset e il wifi, anche questa spazzola molto utile quando dovete andare magari a rimuovere tutto ciò che è rimasto all'interno del contenitore. Contenitore che si rimuove in questo modo, basta alzare ed ecco qui. Qua dentro guardate c'è tutto ciò che oramai si è accumulato in questi giorni. Ed io ho fatto cadere tutto qui dentro e adesso devo pulire. A questo punto, visto che già ho pulito, vi faccio vedere anche come si pulisce la vaschetta. Questo è il filtro che lo potete anche naturalmente staccare in questo modo. Potete anche lavarlo e sciacquatelo. Il comando deve essere bello asciutto prima che lo rimettete a posto. Qui invece, premendo così, guardate, si apre appunto il contenitore per svuotare tutto. Riponete poi tutto all'interno. Chiudete. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ok, adesso iniziamo a dare il comando per la pulizia. Ecco qui, lui ci ha avvisato che adesso inizierà a pulire. Va all'indietro e adesso inizia la sua pulizia. Voglio farvi notare che nonostante abbia solo una spazio, che è quella che vedete che sta girando, quindi solo una, a differenza di altri robot che ne hanno due, comunque la pulizia in tutti i miei test è sempre risultata efficientissima. Ora, mentre lui continua, voglio farvi vedere come è disposta la mia stanza, quindi il mio studio, perché guardate quanto casino c'è, soprattutto quanti ostacoli ci sono. Guardate. E nonostante ciò, questa è una panoramica un po' più ampia, ragazzi, lui non è rimasto mai impigliato da nessuna parte. L'unica cosa a cui dovete stare attenti sono fili, cavi come quelli. I cavi sono i nemici numero uno dei robot, possono farli impigliare. Voglio poi mostrarvi una cosa, guardate qui a terra questa botola che è alta abbastanza, saranno almeno mezzo centimetro, lui riesce a salirci senza problemi. Lì ho un tappeto, non è spessissimo, però comunque anche qui lui riesce a salire senza problemi. Quando la pulizia è iniziata, guardate, potete seguire anche sulla mappa l'andamento del robot, però adesso basta, facciamolo tornare alla base. Lui adesso è qui, ora vi faccio vedere come torna da solo. Eccolo, lui già ha capito che la base è lì, sta tornando, guardate. E' anche abbastanza veloce rispetto ai concorrenti, che risolvano molto più lenti per ritornare alla base. Ed eccolo, adesso si va a posizionare. Inizio caricamento. Ok, è tornato alla base e guardate è arrivato anche, ho arrivato meglio, una notifica sul telefono che mi ricorda di andare a controllare il panno di pulizia. Ok, l'ho spento perché voglio mostrarvi meglio come è fatto sotto. Guardate, questa è l'unica spazzola, come vi dicevo. Questo è il panno per la pulizia che è umido, adesso al tatto che comunque c'è dell'acqua, ed è già sporchissimo. Panno che si può naturalmente sfoderare. Per rimuoverlo qui nei lati, tenete premuto e sfilate verso fuori, in questo modo. Questo invece è il serbatoio dell'acqua. Guardate, c'è ancora dell'acqua dentro. Pensavo fosse meno capiente, ma deve essere onesto. Questo è già il quinto giorno di fila, con modalità media, quindi flusso d'acqua, e c'è ancora tutta questa acqua qui. La camera, comunque come ne ho visto dei dati, è 15-16 metri, ma niente male. Si riempie naturalmente da qui. L'acqua va inserita qui, ma mi raccomando, solo acqua, niente detergente. Infatti ve lo dice anche lui. Panno, come dicevo, sfoderabile. Perché guardate, potete rimuoverlo e poi pulirlo. Riposiziono tutto. E mentre lo accedo, vi faccio vedere che qui c'è il sensore, che poi va a mappare tutta la stanza. Ora premendo qui, gli dico di tornare a casa. E mentre lui torna alla base, mi ha anche dato un colpo, io torno di lì, perché devo darvi alcune nozioni e le conclusioni. Cosa dire di questo Dreamy D9? È un robot aspirapolvere che mi ha convinto, mi aspettavo peggio. Invece quando l'ho provato, effettivamente, mi sono reso conto che, a volte, spendere tantissimo per un robot non conviene. Con un prodotto del genere, che è abbastanza economico, avrete tutto ciò che vi serve. Ricapitolando, funzionalità, due in uno, quindi aspira e lava. Il lavaggio, grazie all'asservatorio, da 270 millilitri, è in grado di, sommariamente, diciamo, lavare un'area che va dai 200 a 250 metri quadri. Quindi, una bella aria. Però, ragazzi, però, quando dico lavare, non significa che state sostituendo il classico mocio e panno. No, questo è un lavaggio superficiale, quindi qualche impronta, qualcosa di appena caduto a terra, utile, naturalmente, in un ufficio, ma anche in una casa. Però, non va a sostituire, lo ripeto sempre, quando voi prendete lo spazzolone e lavate per togliere lo sporco più incrostato. Autonomia molto, molto buona, perché può arrivare fino a 150 minuti. Naturalmente, a seconda della modalità che scegliete, ma con quella standard, sicuramente, almeno due ore ci arriverete. Poi, è in grado, naturalmente, di autoricaricarsi, come vi ho fatto vedere, come vi ho detto. Se non dovesse finire, avete una casa veramente grande, lui, naturalmente, si va a ricaricare e poi riprende dal punto in cui ha lasciato. Potete gestire tutto tramite app, quindi, se non siete a casa e volete fare una pulizia al volo, perché magari avete invitato un amico e sapete di avere, non so, i gatti in casa e quindi volete una passata al volo del vostro robot, avviate la pulizia e prima che andate in casa vi fate trovare la casa bella pulita, almeno per quanto riguarda i peli. Lo dico perché molti mi chiedono sempre come si comporta con i peli di animali. Io, qui, l'ho provato in ufficio, ma a casa a un robot e ho animali, cani e gatti e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Naturalmente, è importantissima la manutenzione perché dovete andare a rimuovere sempre i peli che spesso possono finire anche nel rullo ma anche nelle rotelle. Quindi, i peli, sì, vengono rimossi e quindi aspirati, ma attenzione alla manutenzione. Come vi dicevo, è un prodotto che mi ha sorpreso perché io ho provato anche tantissimi robot aspiravolvere anche più blasonati ed effettivamente costano anche due o trecento euro in più di questo, ma questo per duecento e cinquanta euro perché adesso ha un prezzo che uscille intorno ai duecento e cinquanta a trecento euro. Al listino è treventinove, ma non lo trovate mai a treventinove. Costa sempre quaranta e cinquanta euro in meno. Attualmente, con una promo Amazon e con un codice sconto che trovate qui sotto in descrizione, risparmerete sessanta euro e lo portate da casa per duecento e quaranta. Per me lo rendono il robot aspirapolvere due in uno, più economico, ma soprattutto più affidabile che ci sia. Quindi, è economico, è affidabile e secondo me sotto i duecento euro non conviene mai comprare un robot aspirapolvere perché state comprando un giocattolo. Tra i duecento e cinquanta a trecento euro iniziamo a trovare qualcosa di interessante e affidabile, ma tra tutti quelli che ho provato in questa fascia di prezzo, lui è quello che mi ha convinto di più. Dunque ragazzi, vi lascio il link qui sotto in descrizione, ma a voi se avete dubbi o domande basta un commento e io vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!